Mi chiamo Bianca Ciao, io sono il capitano e questo è il mio grande yacht Verso il grande yacht sta arrivando un piccolo gommone a motore e a bordo ci siamo noi! Ciao, siamo qui, stiamo arrivando! Capitano Adrian, riferisco, gli ospiti stanno arrivando! Davvero? Spengo il motore! Adesso montiamo sullo yacht e facciamo vedere i biglietti! Chissà chi ci sarà ad accoglierci! Benvenuti a bordo! Grazie! Ho bisogno di vedere i biglietti! Il tuo biglietto c'è la bianca nello zaino! Dove? Facci vedere i biglietti per favore! Ecco il mio! Questo è il biglietto di Nicola Questo è il di bianca Questo è il mio E questo è il biglietto di Carl Perfetto! Entrate, prego! Adesso vi mostrerò la cucina! Ben arrivati! E' un piccolo snack di benvenuto! Ma com'è bello qui! E dove dormiremo? Hop hop! Adesso Lucky vi spiegherà tutto! Seguitemi! Qui c'è persino il televisore! Hop! Seguitemi! Hop! Hop hop! Oh! Aiutami Carl! Per arrivare alle cucchette Dobbiamo scendere giù! Ah! Che bellezza! Anche qui c'è il televisore! Ehi! Questa cucchetta è già occupata! Lasciatemi dormire per favore! Là c'è un'altra cucchetta! Anche qui c'è un televisore! Questa sembra essere libera! Non c'è nessuno! Qui sicuramente c'è qualcuno! Wow wow! Che ospiti maleducati! Sto facendo la doccia! Wow! Dovete bussare! Jace non ti arrabbiare! Adesso ti asciugo! Oh! Lucky ha confuso tutte le cucchette! Sarà la fame! Seguitemi! Sullo yacht c'è persino un pianoforte! Questa sì che è una cucchetta! Che letto grande! C'entrate tutti vero? Mamma io con te! Vi piace qui? Sì! Lì c'è l'acqua! C'è il mare! La schiuma! La schiuma! Mamma ma quando partiamo? Dobbiamo chiederlo al capitano! Capitano! Ma dov'è? Capitano! Perché non partiamo? Capitano! Capitano! Perché non partiamo? Adrian perché non partiamo? Alzati per favore! Ancora un minutino! Forza alziamolo insieme! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Guarda la parchetta! Non posso fare il capitano! Ho fame! Dobbiamo prepararli da mangiare! Ho trovato! Adesso peschiamo il pesce e poi lo cuciniamo in padella, sì? Sì! Prendili! Prendili! Preso! Mettilo nel secchiello, Carl! Ancora altro pesce! Una tartaruga! Una tartaruga! Le tartaruga! Le tartarughe non le mangiamo! Adesso il capitano sicuramente si sazierà! Ho pescato il pesce! Grazie, Carlo! Ehi, alla cucina! Buono! Wow! Wow! Quanto! Laviamo il pesce! Buono! 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 Che buono! Voglio assaggiarlo anch'io! Mmm! Nam, 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 nam! Pancina gialla! Ah no! Di sopra è giallo! Vuoi un gelato? Grazie mille! Posso averne uno alla fragola? Grazie Ecco gli altri Adesso finisco di mangiare questo E poi mangio anche gli altri E per me uno stecco gelato per favore È possibile? Questo, questo o questo? Alla banana Che delizia Che buono Adesso sono pronto A guidare la barca Evviva Si parte Ciao Ciao